E' il primo weekend di controesodo e anche in Calabria il traffico in costante aumento soprattutto in autostrada in direzione nord. Rallentamenti si registrano proprio sulla 2 autostrada del Mediterraneo in direzione nord tra gli Svinco e di Montalto e Tarsia in corrispondenza di un restringimento di carreggiata di circa 200 metri in prossimità del chilometro 230 che non è stato possibile rimuovere su disposizione d'autorità giudiziaria. Il transito è consentito in corsia di sorpasso. Al fine di evitare blocchi e circolazioni il personale presente sul posto ha attivato anche un percorso alternativo consigliato sulla viabilità provinciale parallela con uscita a Torano Castello e rientro a Tarsia Sud. Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri venerdì 23 agosto di oggi sabato 24 agosto e in particolare per l'intera giornata di domenica. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di vidreggiatura, di mare al sud, di montagne al nord e dai confini di Stato. La circolazione intensa potrà riguardare i principali itinerari stradali, oltre alla 2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, anche le strade di 106 ioniche e 18 tilene inferiore. Per consentire la fluidità del traffico, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. Per chi si mette in viaggio è importante più che mai nei giorni di esodo seguire una serie di accortezze, dotarsi di genere di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio. Controllare il veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci, i livelli di olio e acqua. Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi.